A Monte Falcone Appennino in provincia di Fermo, un plauso alla Proloco, che per l'occasione ha riaperto le vecchie cantine e abbellito il borgo con decori ispirati ai colori e ai sapori d'autunno. Gustoso itinerario gastronomico degli antipasti ai dolci, con prelibatezze assolutamente uniche, vino cotto, formaggi, noci, castagne, mele rosa, miele e mercatini dei prodotti tipici. Monte Falcone Appennino, un grazioso paesino con musica dal vivo per trascorrere una edizione straordinaria di Sapori d'Autunno, firmato la Proloco di Monte Falcone Appennino, provincia di Fermo. Monte Falcone Appennino